Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Qui abbiamo Goten, ennesima uscita delle statuette di Dragon Ball Z che troviamo in edicola Adesso lo togliamo dalla scatola, così ce lo vediamo nel dettaglio Eccolo qua, Goten Ecco qui com'è fatto I soliti piccoli errori di painting che ci sono sempre Però tutto sommato è fatto bene alla fine Poi la solita basetta con il nome del personaggio Ecco qua com'è fatto Goten, questi sono i capelli Fatti meglio di altri personaggi sicuramente Goten è un personaggio che appare nella parte finale di Dragon Ball Z Nella saga di Machin Bu E' il secondo figlio di Goku e come potete ben vedere E' stato disegnato quasi del tutto uguale a lui Sia per quanto riguarda il vestialio ma anche il viso, i capelli Vedete, è veramente quasi uguale a Goku E' molto forte, è il miglior amico di Trunks, figlio di Vegeta Mi piace fin da piccolo a trasformarsi in Saiyan di secondo livello E insieme a Trunks farà la fusione che darà vita a Gotenx Che sarà la prossima uscita, quindi Gotenx sarà la prossima recensione Con il quale continueremo a raccontare la saga di Machin Bu E' un personaggio questo che appare in tutti i media di Dragon Ball Dal manga, film, anime, veramente appare in quasi tutti Se non addirittura tutti i media di Dragon Ball E in Dragon Ball GT la saga che segue Dragon Ball Z La serie che segue Dragon Ball Z Lo ritroveremo nei panni di un adolescente Ecco, lo rivediamo ancora nel dettaglio Andiamo ad un altro sguardo da vicino Ed ecco qua, Goten Eccolo qua, la prossima uscita è Gotenx Con il quale appunto proseguiremo la storia di Dragon Ball Z Se vi è piaciuto il video cliccate mi piace Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto In descrizione trovate anche il link alla pagina Facebook Cliccate mi piace E il link alla pagina Instagram del canale Cliccate segui se vi fa piacere Io vi ringrazio per la visione e ci becchiamo al prossimo video Ciao ragazzi